Perché la domanda che più insistentemente l'uomo si pone sulla terra è, e tu lo sai, è molto serio, mi piace, ditemi a chi ce non flettermi, ma perché sei venuto a disturbarci? Vai via! Mi fa piacere che ci diamo del tuo, secondo te Dio esiste, quando uno mi parla di Dio non so di cosa parli, rispondi seriamente, no Dio non esiste, e l'immortalità no, non è pure l'immortalità che esiste, nulla, nulla, zero, zero, zero assoluto. E allora chi è che si prende gioco dagli uomini? Ci sarà qualcosa, qualcuno, no? Tu vorresti salvare la mia anima? Devo commettere qualche buona azione, e così la tua felicità è anche quella di tutti, perché ha ottenuto da te, senza la forza, senza mettere cartelli, quel che la tua volontà individualista non voleva dare, ovvero, pisciare dentro. E' un vecchio, alto, dritto, con le guance scavate da chi per tratti. E' il grande inquisitore. Nooo!